La prima domanda che ti fa è, di che sogno sai? Come se fosse la domanda fondamentale Che tu che devi fare? Rispondi, no? Sagittario Nooo, non l'avrei mai detto Ma perché? Perché non c'ho l'arco? Non lo so La prima domanda che non c'ho l'arco La prima domanda che non c'ho l'arco La prima domanda che non c'ho l'arco And shout, and let it out We sayin' oh, we oh, we oh, we oh You are now, now, rockin' with Will I am in Britney, bitch Who gratifies Doon E a bunda dela bate Bate, bate Bate, bate, bate Bate, bate E o Gabi faz doon Oh, stranger Bate 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 che talvolta può risultare matto. Sesto posto Ariete che può reagire in maniera molto irruenta se gli dai fastidio. Quinta posizione Leone capace di sputare fuoco. Quarto posto Gemelli governato dalla sua bipolarità imprevedibile. Terza posizione Pesci un segno pazzo ma con fantasia. Secondo posto Scorpione che impazzisce di gelosia se è veramente innamorato. Il più pazzo è il cancro che ha sbalzi d'umore incredibile. Se i segni dello zodiaco dicono alcune di queste fottutissime parole allora stanno mentendo. Se un segno della riete in una situazione in cui è successo qualcosa ti viene a dire che è calmo e di star tranquillo sicuramente devi stargli lontano ma davvero. Quelli del segno del toro invece dicono di mentire soltanto quando lo fanno per proteggere i sentimenti di qualcuno. Se un segno dei gemelli ti dice ti prometto che non lo dirò a nessuno fidati non fidarti. Se un segno del cancro dopo che gli hai fatto un torto ti dice tranquillo tranquillo ci passo sopra non è vero cazzo ci pensa sempre 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 di continuo. Se un segno del cancro della vergine ti dice mentre stai parlando interessante quello che mi stai raccontando boiata micidiale non è vero non gliene frega niente non vede l'ora che smetti. Se un segno della bilancia ti dice sei il mio migliore amico della vita è una minchiata perché in realtà ce ne ha altri dieci a cui dice la stessa cosa. Se uno dei pesci invece ti dice sì sì ti ho capito tranquillo in realtà sta mentendo non ha capito niente. Se un segno dell'acquario si scusa con te perché ti dice scusami non volevo in realtà non gliene frega niente guarda proprio potresti morire per i cinque segni più oscuri dello zodiaco. Al quinto posto gemelli un segno che ha due facce talvolta sembra bravo altre volte è veramente velenoso. Al quarto posto capricorno che combatte con tutti coloro che lo feriscono il suo orgoglio è veramente difficile da abbattere. In terza posizione pesci che sarebbe capace di trasformare la sua rabbia in un vero e proprio tsunami. In seconda posizione cancro un segno che all'apparenza sembra tenero dolce e sensibile ma se lo fa arrabbiare diventa un essere crudele e oscuro. Ma al primo posto il segno più oscuro dello zodiaco è lo scorpione che in inglese viene detto the king of dark. Questo perché lo scorpione se le cose non vanno come vuole lui diventa l'essere più cattivo e crudele che sia mai esistito sulla faccia della terra. Ma voi ve lo stai mai chiesti come sarebbero i segni in videochiamata? Beh vediamo. Regà un secondo solo che mi sistemo aspettate la luce. Mi vedete bene? Sì ok? Ok benissimo. Andiamo che cosa vuoi? Stavo dormendo che ore sono? Sono le 7 di sera. Vabbè ma non me ne frega tu non dormi a quest'ora. Perché mi hai chiamato? Ah poi volevo sentirti. Sì ok ma non mi sembra di averti detto che io volessi farla la chiamata. Guarda mi sta chiamando nel momento davvero complicato sto facendo tipo 3.000 cose contemporaneamente non mi sembra il caso richiamarmi adesso così a caso almeno avvisami mi preparo. Ehi a cosa arrivo questa chiamata? No in realtà non stavo facendo niente stavo solo controllando se il balcone fosse abbastanza alto e buttarsi. Perché mi hai chiamato? Ho fatto qualcosa? Tu non mi chiami mai mai? Nessuno mi chiama mai. Perché? Perché mi hai chiamato? Senti Fran ma perché mi chiami sempre quando sto al cesto? Cioè non è possibile. Sì. Oggi vi mostro i segni in videochiamata parte 2. Ehi perché mi hai chiamato? Boh mi annoiava. Cioè tu mi stai dicendo che solo perché ti annoi tu mi chiami? Cioè sono la tua ultima scelta? No no va bene ok ciao. Uè. Perché non ti fai vedere? Perché la mia faccia fa schifo? Sai non tutti quanti hanno la fortuna di nascere belli. Si può sapere perché mi chiami? Sì sono nervoso sono nervoso perché ho fame e non ho voglia di cucinare. Scusa mangio una mela. Ti devo bloccare. Ehi. No no sentimi devi fare un piacere devi pulire sta videocamera no? Ti giuro fa schifo puliscila ti prego. Ehi come stai? Che sto facendo? Niente sto preparando lo perché devo assolutamente scappare di casa perché ho fatto un casino. You bitch! Sa perché sono la migliore? Perché non mi accontento mai? Ti abbiamo già salutato resterai per molto. Oh andiamo ragazzi scherzavo. Ho qui un correttore buonissimo per cui le occhiaie da cadavere. Si è già fatta sette selfie da quando è entrata che esagerazione. Lei è felice guadagnando mille euro al mese? Ripetendo la stessa merda in classe tutti i giorni. No non mi toccare. Sei daltonico? Oh quando ti sei vestito e spento la luce. Vuoi farmi un uomo? Non stai leggendo Valeria. Scusa. Ecco qual è l'animale spirituale che protegge il tuo segno zodiacale. Se sei ariete allora l'animale che ti protegge è il ghepardo. Questo animale fa che tu sia indipendente, coraggioso, competitivo e impulsivo. Se come me sei toro allora ci protegge l'osso polare. Questo vuol dire che siamo protettivi ma anche sicuri, leali e con una vena artistica. Se invece sei gemelli allora sei protetto dalla volte. L'influenza della volpe trova intelligenza, astuzia e voglia di provare cose nuove. Ma go, mio amore. Io non sono geloso. Belli è. Un bacio all'improvviso. Ti voglio e non lo dico. Lo leggo sul tuo viso. Non credere al destino. Che prima ci allontano e poi ti porta qui da me. Paradiso. Lo sapevo. Voglio dire se non ci finisco io che ci finisce. Chissà come mai non sono sorpreso. Vabbè. Che c'è per cena? Pasta il ragù? Mi piace il ragù. Ci sta. Oh mio Dio. Sono in paradiso. Sono in paradiso. Ce l'ho fatta. Sei sicuro che sono in paradiso? È giusto il posto? Ok. Sono in paradiso. Sono in paradiso. Inferno? Perché mi avete messo all'inferno? Non ho fatto niente di male. Cioè, ok. Io ho soltanto rubato il fidanzato da mia moglie amica, guidato senza patente e finito la mia morte per vedere se la gente avrebbe pianto al mio funerale. Ma non mi merito l'inferno. E così questo è il paradiso? Ci ho fatto il buono tutta la vita per arrivare qui e non avere manco una vasca idromassaggio? Io bo. Lo importante è che sia felice. Ciao. Ciao.